Il lavoro sinergico intrapreso contro il cyberbullismo dalla Fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio, preseduta da donna Giovanni Tandurella, trova nel comune di Gela un partner sensibile per una navigazione consapevole dei più piccoli internauti, sempre più esposti ai pericoli della rete. Lo dice l'assessore comunale ai servizi sociali e di istruzione, Licia Abela. La Fondazione Aldisio ha restituito al settore servizi sociali e istruzione un documento molto importante. Sono i dati che hanno certificato lo status attuale del livello di cyberbullismo presenti nelle nostre scuole. Un monitoraggio molto attento che si è concluso con l'attivazione di un numero telefonico per fornire a chi effettivamente ritiene di essere vittima o comunque desidera avere dei chiarimenti in merito alle questioni del cyberbullismo la possibilità di avere un confronto con personale qualificato. Io e comunque il settore in toto abbiamo accolto positivamente questa raccolta di dati perché rappresentano uno spaccato importante della visione attualissima di una problematica altresì attuale che è appunto quella del cyberbullismo e quindi insieme, perché no, anche alla Fondazione riuscire a trovare gli strumenti che possono essere di lotta efficaci rispetto ai dati che ci sono stati rilasciati. I dati forniti dalla Fondazione al culmine del monitoraggio effettuato tra le scuole primarie e secondarie di primo grado in città, ha riferito Ricciabela, ci inducono ad una profonda riflessione e alla necessità di approfondimento di un fenomeno dedicato per la crescita delle nuove generazioni. Va dato merito alla Fondazione Aldisio di aver saputo creare una squadra qualificata per affrontare la questione da professionisti, psicologi e legali fino alla Polizia di Stato. Adesso grande attenzione va puntata anche sulla percezione che del cyberbullismo hanno i genitori delle potenziali vittime o degli attuali prevaricatori. E in questo senso, continua Bela, il progetto 4U, sempre promosso dalla Fondazione Aldisio, rappresenta la naturale continuazione di questo percorso. L'assessore comunale ha invitato quanti ne avvertano il bisogno a rivolgersi alla linea telefonica attiva da oggi pomeriggio. Il numero è 377 98 73 120.